Si chiama I tuoi baci Molotov, lo spettacolo è andato in scena al teatro dei rassicurati di Monte Carlo domenica scorsa, nell'ambito della rassegna teatrale che è di scena a Monte Carlo 2018, organizzata dalla FITA in collaborazione con il Comune di Monte Carlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sotto l'attenta regia di Roberto Pecchia, in scena la compagnia Le Fortunate Eccezioni, con sul palco Valeria Belloni ed Alessandro Lutri, in un arguto quanto intrigante e spaccato degli equilibri all'interno della vita di coppia, che possono anche essere sconvolti da segreti che tornano a riaffiorare a volte grazie ad un pacco postale. Un pacco che risale a 22 anni prima potrebbe contenere qualsiasi cosa. La cosa brutta è che tante cose non si ricordano, quindi il brutto è che non ricordandosi che cosa c'è dentro il pacco non si può mai sapere che sorpresa può uscire fuori. E purtroppo, come spesso accade, tutti abbiamo degli scheletri nell'armadio. In questo caso Vittoria ha un grosso scheletro nell'armadio. I tuoi baci Molotov di Gustavo Ott, autore venezuelano, prosegue per le fortunate eccezioni una trilogia di spettacoli. Ci piace affrontare temi un po' interessanti dal punto di vista sociale. Questo spettacolo fa parte di una trilogia che riguarda praticamente la coppia. Il primo spettacolo è stato fatto, gira ancora praticamente, riguardo alla violenza sulle donne, che era parola incatenata. Questo è un testo che, diciamo, è il secondo testo sulla coppia e rappresenta un po' sulla verità, sulla conoscenza, su ciò che spesso non si dice, mantenendo anche poi dei contatti con la realtà e con il mondo di oggi, quindi con le ipocrisie che ci sono. Positivi commenti di critica di pubblico di questo appuntamento che ha confermato la qualità della rassegna del Teatro di Monte Carlo.